Ciao a tutti, siamo sempre qui da Francesco, tra la provincia di Mantova e la provincia di Cremona. È il 13 agosto e adesso Francesco vi fa vedere un po' tutte le varietà di fragole che ha qui, che ne ha veramente tante, poi lui è molto esperto. Adesso cedo la parola a lui. Questa è una collezione di vecchie e antiche fragole. Praticamente partono dal 1800 arrivare al 1970-80. Questa ricerca perché hanno dei sapori che nelle fragole moderne si sono persi. Hanno sapori molto particolari, molto profumate e sicuramente sono meno produttive, è chiaro. Ecco, qui ci sono alcuni esempi di queste fragole qua. Qui parliamo della Vades V6, per esempio l'Ansa, per esempio la Direc Polvalbaun. Queste sono tutte qualità, molto vecchie, alcune vecchie, alcune più recenti, molto vecchie. e sono tutte messe nei vasi. Questa è una fragola moscata, dal sapore moscato, tipo la profumata di Tortona, che ha questo sapore particolare, vinoso, moscato. e hanno tutte queste qualità, ogni qualità ha un suo sapore, ha un suo bouquet. Sembrerà strano però ogni qualità. e questa è l'abbondanza, molto vecchia, dei primi del Novecento, per esempio. Con sapori particolari di pera, di ciliegia, di amarena, proprio, proprio da, che ti danno un impatto. Questa è una virginiana, è una qualità di virginiana. Poi, per esempio, abbiamo una vecchia qualità inglese, la Luxon Noble. Poi, questa è la King Seedling, che è una delle prime qualità che ha dato, che ha dato origine a quasi tutte le qualità di adesso. Una delle qualità, è del 1820, fra fruttifiche, chiaramente fra frutti molto piccoli. Poi abbiamo altre qualità, tipo la Madame Moutot. Questa è la Madame Moutot, molto famosa, che si trova ancora in qualche orto. Poi abbiamo qualità un po' più recenti, tipo la Souvenir de Cal Machirot, la vera Souvenir Machirot. Poi abbiamo una fraume Schindler, una selezione di fraume Schindler, una vecchia qualità famosa. Poi abbiamo, ecco, questa è l'ampola, è una, era probabilmente, è stata ritrovata in Piemonte, una dei primi esperimenti di ibridazione di fragole. Fa delle fragole molto piccole. Poi abbiamo la Chiloensis 1, che viene dalle sabbie della California, praticamente una fragole che cresce sulla sabbia vicino al mare. E poi abbiamo tutte altre qualità che vengono da tutti i paesi, Germania, Francia, Inghilterra. Adesso qua non sto a descriverle tutte, perché ce ne sono tante, ne ho più di 100, perciò ho dato un'immagine di queste vecchie qualità di fragole. Adesso qui guardiamo il campo, ecco, sono tutte le parcelle, le ho messe in vaso, tutti separati, tutti e dopo uno le può, quando è in stagione, uno le assaggia tutte e non ce n'è una di uguale. Sono sapori che ti danno un'emozione, in poche parole. Adesso guardiamo un po', adesso non sto a dominarle tutte. Ecco, io direi che ho detto, ho detto, a grosse linee, è quello che ho sempre fatto. Niente, ringraziamo Francesco per questa panoramica della sua raccolta di fragole, lo ringraziamo e io e Francesco vi salutiamo, adesso è arrivato anche Fabio che la fa degli innesti. Io, Fabio e Francesco vi salutiamo. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti. 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 Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Grazie a tutti